bella ragazzi cari come mai da Fuse Gamer oggi ragazzi siamo qui con Napoli Lazio big match diciamolo subito il primo big match del 2019 giusto la prima partita del ritorno quindi cominciamo alla grande speriamo sia una lunga serie di vittore speriamo questa la prima è una partita abbastanza difficile però nei commenti ci dovete dire secondo voi qual è stato il Napoli Lazio più emozionante di tutti e due sono diversi se una partita è la mia è un'altra quindi adesso andiamo dentro con il rito Stadio San Paolo ragazzi il sondaggio giornaliero cambiamo tipo quanti giocatori hanno fatto il segno del gioco in questo momento ci sono gli absurdi ragazzi il sondaggio giornaliero cambiamo tipo quanti giocatori hanno fatto il segno del della croce vediamo chi indovina chi indovina posizione dopo di su ciò che importa con il numero uno articolo Número 33, Rauvo, Aldeo, Número 19, Vigera, Maksimovic, Número 6, Mario, Rui, Número 7, Hase, Dajneho, Número 44, Aminu, Diabara, Número 8, Aminu, Rui, Número 30, Ketro, Zieliński, Número 14, Cisó, Merkez, Medi Paola, смелоi,ềnke, Dajneho, Número 40, Vigera, Número 40, Noticias Verde, Dajneho, Número 30, Ma الخуй, Número 40, immaginio 14, Faro, Rai, Número 41, Fbiera, Maksimovic... 30, vero 40, ha 0 povere 41, Better to win the Pro, Faro and ia Againäusko, Pat, 0 y p. Barkschak, 9 e p. Romain, eccolò per fare… ¡Napoli! Cominchiamo con la partita, speriamo di far bene. Sarà dura anche senza colpa di dietro. Molto. Una grande squadra. Insigne. Insigne. All'altra non c'è. Vediamo il giro di poco, vinciamolo bene. Giro, con un lato sì. Forza! Forza ragazze. Speriamo. Dai, dai, dai. No, vai giù! Ma che cazzo! Vai giù, vai giù. Cioè Beret ci ha salvato, eh. Forse era tirato in faccia, però... Milinkovic sta da marcare stretto. I desti è il più forte. Dai, dai! Bravo! No... Puntalo! No, no, voglio che trovi. Er'ha sfondata! No, ma no. Sta tremando ancora. Ha sfondato ancora. Sta tremando ancora. Sta tremando ancora. No, ma che meto di 3. Dai, dai. Dai, dai! Hey, dai! E... E' una vita che non si fanno così. Tome! Paglia è culo! Ma che cosa fai? Oh, vero che ha parato, chissà! C'era una spinta, amico. Ma che cazzo fanno? Ma che cazzo fanno la parata? Ce l'ha morito a basso. Oh, i salami! Oh, minchia di te! Oh, grazie! Una bella partita, però, va. Molta occasione. No! No! Finalmente! No! Fioca! Se vPrima! Allorzционale! Ti the juice! Ka-le-on! 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 Valia! è una pioggia per Caglione mamma mia vieni così dai ci siamo buono 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 a me 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 BIVI! L'ha messa lì! Grande Are! Preciso! 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 Abbiamo tempo abbastanza bene. Ieri era abbastanza bene. Stiamo facendo il nostro. La Nazia comunque sta attaccando. Ci sta. Una bella squadra. Abbiamo avuto diverse occasioni. Due gole ci stanno per le occasioni. Forse uno non avrebbe meritato. Forse sì. Però almeno due sì. Quindi ragazzi, secondo tempo, speriamo di continuare così. Bravo Arek. Back in the lake. Aburi ed altri mezzi di diffusione sonora e anche fischietti. Dai, dai, cominciamo. Secondo tempo, dai, continuiamo su questa scena. Rischio, eh. E' buona estate, eh. E' svegliato il palo. Dai, congennazio. Vai Zili! Ci siamo più, ci siamo più interessati. Dotti! Allora. Dai, Mari. Dai. Dai. Buon! Bravo! 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 Ce lo so a Stratoccia. La croce dei pali, è nata parola. Due pali, dai. C'è una mia meretta, super meretta! I portieri stanno facendo una partita esagerata. Non era fuori gioco, non era fuori gioco. Se partite così fanno c'è, quando non segni non l'aiuti, non vanno sempre il cazzo. Ragazzi, i mobili sempre, i mobili cazzo. Non puoi fare il terzo, eh. Non puoi fare il terzo con i Claudio in questa partita. Uffa! Rosso per il ragazzo! Lulic penso, penso a Lulic. Buono dai, magari ci calmiamo un pochettino. E Milic magari la riputta dentro. Arrecca! Arrecca me lo ecco! Ah, niente! Ci sta! Vai Simone, vai! C'è la potenza e non la precisione. Stanno vedendo la palla che andava via. C'è la palla che c'è la palla che c'è la palla. Che giro ha preso sta palla? Guarda, sei la più bassa della culla. Ragazzi, chiudiamola per piacere, per cortesia, personale. Anche più stiamo, dai, è cazzo. Vai! È che cazzo! È che cazzo! È che cazzo! È che cazzo! Cazzo, fino alla fine. Non siamo riusciti a fare il terzo. Siamo arrivati a chiudere questa partita. Troppo brutta. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Mi raccomando ragazzi, seguite tutti quanti i FuseGamer! Sì! E dare un ringtone di iscritti! Sì! Quindi ragazzi, adesso ci becchiamo con Milano-Napoli, che partita di camminata, poi Coppa Italia. Questa è la partita! Mi piace! Mi piace! Noi ci becchiamo al prossimo video! Bye!